Achille Campanile Paganini non ripete Quando Paganini, dopo un ultimo interminabile acrobatico geroglifico di suoni rapidissimi, ebbe terminata la sonata, nel salone del regal palazzo di Lucca scoppiò un applauso da far tremare i candelabri gocciolanti di cera e i ridecenti di cristallo di rocca che pendevano dal soffitto. Il prodigioso esecutore aveva entusiasmato, come sempre, l'uditorio. Calmatosi il fragor dei consensi, e mentre cominciavano a circolare i rinfreschi, ed ogni intorno si levava un ciccaleccio ammirativo, la Marchecia Zanoni, seduta in prima fila e tutta grondante di merletti veneziani intorno alla parrucca giallastra, disse con la voce cavernosa e fissando il concertista con un sorriso, che voleva essere seducente tra le millerughe della sua vecchia pelle. Bis! Inguainato nella marsina, con le ciocche dei capelli sugli occhi, Paganini s'inchinò galantemente, sorrisi alla vecchia gentildonna e mormorò a fior di labbra. Mi dispiace, Marchesa, di non poterla accontentare. E la fu signora che io, per difendermi dalle richieste di bis che non finirebbero mai, ho una massima alla quale non ho mai derogato, né mai derogherò. Paganini non ripete. La vecchia signora non lo udì. Con un entusiasmo quasi incomprensibile in lei, che era sorda come una campana, continuava a batter le mani e a gridare, con le corde del collo tese come una tartaruga. Bis! Bis! Paganini sorrise, compiaciuto di tanto entusiasmo, ma non si lasciò commuovere, facendo alla vecchia dama di non insistere e ripeté con cortesia fermezza. Paganini non ripete. Come? Fece la vecchia che naturalmente non aveva sentito. Paganini, ripetè il gran violinista, voce più alta, non ripete. La vecchia sorda non l'aveva ancora capito. Crede che il musicista avesse consentito e si dispose ad ascoltare nuovamente la sonata. Ma vedendo che il celebre virtuoso si accingeva a riporre lo strumento nella custodia, esclamò afflitta. Come? E il bis? Le ho detto, signora, fece Paganini. Paganini, non ripete. Non ho capito, disse la vecchia. Paganini, non ripete, strillò Paganini. Scusi, fece la vecchia. Con questo brusio non si arriva ad afferrarle parole. Parle un po' più forte. Il violinista fece portavoce con le mani attorno alla bocca e le urlò quasi all'orecchio. Paganini, non ripete. La vecchia scosse il capo. Non ho capito le ultime parole, gridò come se sordo fosse l'altro. Non ripete, non ripete. Paganini, non ripete, strillò il virtuoso. La vecchia fece una faccia allarmata. Si vuole far prete? Domandò. Ma no, urlò Paganini in sgomento. Paganini, non ripete. Ha sete, fece la vecchia. E volta i domestici in rea che circolavano coi vassoi. Ha un rinfresco al nostro glorioso violinista. Ma che sete, esclamò questi, che rinfresco. Via, via, il bis ora, insiste la vecchia, convinta che il concertista stesse per contentarla. Ma questi di nuovo si inchinò con perfetta garanteria e... Le ripeto, disse, che Paganini non ripete. Quel pezzo ultimo, continuava la sorga. Paganini, non ripete, urlò il violinista proteso sull'orecchio di lei, facendo svolazzare i merletti veneziani che le pendevano dalla gialla parrucca. Quante volte glielo devo ripetere? Una volta, fece la vecchia, che era riuscita ad afferrare l'ultima frase. E crede che Paganini le domandasse quante volte doveva ripetere la sonata. Una sola volta mi basta. Ma Paganini non ripete, ripete Paganini. Va bene, va bene, replicò la vecchia, che questa volta aveva capito e crede che Paganini non volesse ripetere la frase detta. Non occorre che me lo ripeta. Ho capito benissimo. Mi basta che faccia il bis. Paganini, strillò Paganini con quanto fiato aveva in gola. Non ripete, non ripete, non ripete! La vecchia, fecendo di non aver capito, Paganini si vide perduto. Si volse al gruppo degli altri invitati, che si erano affollati intorno a loro, attratti dalla scena, e disse in tono disperato. Fatemi il favore, diteglielo voi. Non ha ancora capito che non ripeto. Glielo ho ripetuto venti volte, glielo sto ripetendo. Non ripeto! Quante volte io lo devo ripetere!